Il nuovo capitolo del libro di storia è dedicato all'ultimo grande protagonista del sogno imperiale in Europa, Carlo V d'Asburgo. Andiamo a vedere perché Carlo V ha queste ambizioni. Carlo V, già re di Spagna dal 1506, anno della morte di suo padre Filippo il Bello, nel 1519, a causa della morte del nonno Massimiliano d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, eredita questa carica. Egli aveva ereditato per via paterna i regni di Castiglia e Aragona, poi trasformati in regno di Spagna, e dalla nonna paterna Maria di Borgogna i territori di Borgogna e della Franca Contea. Adesso eredita il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero, per ottenere il quale però doveva avere il benestare, doveva superare l'elezione da parte dei grandi principi tedeschi, che non erano tanto contenti di avere come sovrano uno che possedeva già l'altra metà del mondo. Per cui Carlo V, grazie all'intercessione dei potentissimi banchieri tedeschi Fugger, riesce a corrompere i principi tedeschi e a farsi eleggere imperatore del Sacro Romano Impero, dal 1519. Ecco il grande impero di Carlo V, che va dal Sacro Romano Impero fino ai nuovi territori del Sud America. Infatti, egli ha ereditato per parte materna il regno di Spagna, e cioè l'eredità di Aragone e di Castiglia, che comprende oltre la Spagna, il regno di Napoli, il regno di Sicilia e il regno di Sardegna, tutta l'Italia meridionale, e le nuove colonie americane. Per parte paterna, invece, dalla nonna paterna ha ereditato la Franca Contea ai Paesi Bassi, della famiglia di Borgogna, e i territori del Sacro Romano Impero, Bohemia, Austria e Slesia, che gli garantivano il titolo imperiale. Quindi vedete che per completare il suo sogno imperiale, sul territorio europeo, a Carlo V mancava sostanzialmente il regno di Francia, per poter congiungere i suoi domini. Infatti, i grandi obiettivi di Carlo V per raggiungere il suo sogno imperiale erano ripristinare l'unità religiosa, perché un grande impero dove c'è un'unica religione è più facilmente manipolabile, indebolire fino a far fuori il regno di Francia, che rimaneva una macchia sulla cartina d'Europa che separava i suoi possedimenti, rafforzare il potere centrale, il potere dell'imperatore, sui principi tedeschi, vedete questo è il Sacro Romano Impero, però è diviso in tanti territori, questi sono i principali tedeschi, Turinja, Sassonia, Franconia, Lotaringia, Baviera e Svevia. Egli voleva rafforzare il potere imperiale su tutti questi altri territori e far fuori il nuovo grande nemico che arrivava dall'Oriente, e cioè Solimano il magnifico imperatore degli Ottomani. Una volta concluse tutti questi obiettivi, avrebbe realizzato il suo sogno di impero universale. Carlo V comincia dal primo obiettivo, quello di far fuori la Francia. Per far fuori la Francia doveva avvicinarsi al suo territorio. Ecco perché Carlo V occupa il Ducato di Milano, che era limitrofo, che era confinante con il Regno di Francia. Suscita subito la reazione dell'esercito francese guidato dal re Francesco I e si ha una battaglia nel 1525 a Pavia in cui l'esercito imperiale alla meglio e il re di Francia viene catturato. Quindi la Francia deve rinunciare al possesso del Ducato di Milano. Ma un anno dopo la Francia chiede rinforzi, si allea con Inghilterra, Firenze, Venezia, Genova e Milano formando la Lega di Cognac. A questa Lega parteciperà, darà un appoggio esterno, anche il Papa Clemente VII. Carlo V sarà molto infastidito da questo schieramento del Papa, fino a far saccheggiare Roma nel 1527 dai Lanzi Chenecchi, che altro non sono che dei soldati mercenari al soldo di Carlo V, che fanno uno scempio della città di Roma. Finalmente Carlo V nel 1529 ha la meglio sulle truppe alleate della Lega di Cognac e nel 1529 si firma la pace di Cambrai tra Carlo V e la Francia. Cosa dice questa pace? Che la Francia rinuncia ai territori italiani. In cambio, l'imperatore rinuncia al suo controllo sulla Borgogna, dove possedeva un ampio territorio dalla nonna paterna. Il Ducato di Milano rimane alla famiglia degli Sforza, che però sono fedeli all'imperatore Carlo V. I medici, che erano stati cacciati da Firenze nell'arco della guerra tra Francia e Sacro Romano Impero, ritornano a Firenze e diventano di nuovo signori di Firenze. Venezia e Ferrara, che avevano approfittato della debolezza dello stato della Chiesa per rubacchiare qualche territorio al papato, devono restituirlo. E così viene sancita anche la pace tra il Papa e l'imperatore. Ma Carlo V non era rimasto molto soddisfatto da questa sua prima campagna d'Italia. Infatti, non appena muore Francesco II Sforza, occupa militarmente Milano e dice qui comando io. Assume il controllo del Ducato di Milano e, come tutta risposta, Francesco I di Francia occupa la Savoia, una regione vicino al confine col Piemonte. Minacciando così da vicino il Ducato di Milano. Poi Francesco I morirà e gli succede il figlio Enrico II. Enrico II allarga ancora di più lo spettro delle sue alleanze, fino a coinvolgere i cosiddetti pagani ed eretici. Infatti si allea con i turchi ottomani e con i principi luterani, attaccando l'impero, il sacro romano impero germanico da più lati, quindi da est con gli ottomani e da ovest con le truppe alleate francese e luterane. Tant'è che i turchi arriveranno fino alle porte di Vienna, anzi assederanno la città di Vienna. Carlo V ormai è stanco e indebolito da questa lunga fatica, da questi lunghi anni di guerra, e abdica, cioè lascia il trono, a favore del fratello, Ferdinando che prende il trono di imperatore del sacro romano impero germanico, e di Filippo II, il figlio, che diventa re di Spagna. È proprio Filippo II a portare avanti la guerra e a concluderla nel 1557, sconfiggendo la Francia pesantemente. Con la successiva pace di Cato Campresì del 1559, Ducato di Milano, Regno di Napoli e Stato dei Presidi, un territorio situato tra Stato Pontificio e Ducato di Toscana, vengono assegnati alla Spagna. La città di Genova, che nel frattempo si era schierata con gli Asburgo, riceve come ricompensa l'isola della Corsica. Andiamo a conoscere adesso l'altro grande protagonista di questa guerra, e cioè Solimano I il Magnifico. Aveva riformato l'antico impero ottomano, rendendolo più moderno e più efficiente, occupando l'isola di Rodi e tutte le isole veneziane nel mare Geo, sconfuggendo i serbi e gli ungheresi e arrivando alle porte di Vienna, assediando la città di Vienna. Mentre in Oriente riesce ad estendersi ai danni dell'impero persiano, conquistando Baghdad. Il suo stato era amministrato molto efficacemente e efficientemente dai suoi funzionari, i Vizir, controllati da un primo ministro e il Gran Vizir. Solimano era di ampie vedute, ospitava tra i suoi amministratori e tra i capi del suo esercito molti occidentali che preferivano lavorare per lui anziché per i dispotici re d'Occidente. La sua corte si riempie di intellettuali e di grandi artisti, quindi sarà un sovrano molto illuminato e che darà filo da torcere all'Occidente. Nel frattempo, l'Europa si era divisa in diverse zone, delle zone di sviluppo e delle zone arretrate, soprattutto rispetto all'attività agricola. Infatti, in queste zone di sviluppo, soprattutto Inghilterra, Paesi Bassi e in parte Pianura Padana, si era sviluppata un'economia di tipo capitalistico con il miglioramento delle colture e con innovazioni tecnologiche. In Inghilterra, per esempio, si praticava il tipo di agricoltura con le enclosures, cioè i grandi campi pubblici venivano privatizzati e divisi fra diversi contadini che diventavano imprenditori di se stessi. assumevano lavoratori salariati, coltivavano in maniera più efficiente i loro campi, incentivando anche l'allevamento degli ovini e quindi l'industria tessile. Nelle zone più arretrate d'Europa, soprattutto dell'Italia meridionale, orientale e della Spagna, c'era un'economia agricola di tipo feudale che si limitava a colture estensive delle terre, grandi lattifonti coltivati con colture estensive. Quindi già si crea una grande differenza tra l'Europa del centro-nord e l'Europa meridionale. In più, intorno alla metà del Cinquecento, si sviluppano molto i traffici internazionali lungo le rotte atlantiche. Non è più il Mediterraneo il centro dell'Europa, ma ne beneficiano soprattutto i paesi che sono sull'Atlantico. Le città del nord Europa sostituiscono infatti quelle mediterranee. Ad Anversa, in Belgio, nasce la prima borsa valori, cioè l'istituto finanziario che determina il prezzo delle merci, dove si contrattavano i prezzi e dove si stabiliva il prezzo del denaro. Diventano sempre più potenti i banchieri che assumono potere e prestigio. Abbiamo visto che i fruggeri in Germania avevano deciso con il loro prestito, Carlo V, il destino dell'impero. Pensate quant'erano potenti. Infine, questa è la linea del tempo di Carlo V, che parte dalla sua elezione a imperatore e con le diverse tappe delle sue campagne italiane, lunghe ma alla fine abbastanza inconcludenti, che si concluderanno con la pace di Cato Cambresì del 1559. Praticamente, Carlo V farà la guerra per 50 anni senza ottenere un gran che, se non il Ducato di Milano. Cos'è importante di questo capitolo? Più che tutte le varie alleanze politiche, è importante sottolineare che in Europa ormai non c'è più spazio per i grandi imperi. Le grandi nazioni europee si sono autodeterminate e ognuna si contrappone all'altra. Non si consente più di creare un grande impiero sul suolo europeo. Poi abbiamo uno sviluppo economico che interessa i paesi del centro-nord Europa, con l'abbandono del vecchio mercato mediterraneo, e che determinerà anche un investimento, un'economia di tipo capitalistico, con degli investimenti anche nel settore agricolo, che risulterà più sviluppato e più redditizio nel centro-nord Europa, e di stampo più medevale e feudale nel sud dell'Europa. Quindi si crea un'Europa un po' a due velocità. Vedremo nel prossimo capitolo i diversi sovrani delle diverse nazioni europee come riusciranno a prevalere ora uno, ora l'altro, sui loro avversari e a determinare quelle che sono più o meno le nazioni attualmente presenti in Europa. Arrivederci.